In Valtellina prima nevicata di stagione anche a basse quote. Dalla serata di ieri i fiocchi infatti hanno cominciato ad imbiancare il fondo valle ricoperto da una coltre spessa una decina di centimetri. La neve seppur debolmente ha continuato a cadere per buona parte della nottata così stamane la provincia si è risvegliata in uno scenario invernale tipicamente alpino. La perturbazione tuttavia si è esaurita nella mattinata col ritorno del sereno che favorisce le gelate. Immediata sulle principali strade a partire dalla statale 38 l'entrata in funzione dei mezzi spazzaneve e spargisale. Anche sui passi la situazione della viabilità risulta tranquilla pur consigliandosi la massima prudenza con gomme da neve o catene a bordo da montare all'occorrenza. Al momento non si registrano sulle strade situazioni di particolare criticità. Più fitta la precipitazione nelle stazioni montane con gli impianti aperti a pieno regime che si apprestano a ricevere i turisti per le festività di Natale e fine anno.